Dopo la proclamazione delle vincitrici e questa riuscitissima serata vogliamo presentarvi Maruska, la presentatrice, scusate il gioco di parole, ma anche le presentatrici vanno presentate, che ha retto ottimamente la prova del palco presentando le stupende concorrenti ad un pubblico veramente entusiasta. Maruska, la tua impressione sulla serata? Ma buongiorno, buonasera, buon ciao a tutti quanti, grazie mille. Allora è stato un concorso fantastico, le ragazze erano bellissime e le abbiamo potute vedere in tre sfilate diverse, quindi è stata proprio una visione completa dell'essere trans, quindi di giorno, di sera e anche al mare con un costume da bagno. Che dire, io mi sono divertita tantissimo a presentare questo evento e ne vengano altri mille, ma soprattutto io voglio fare un appello a tutte le trans italiane, perché le vogliamo vedere giocare in questi concorsi, le vogliamo vedere mettersi in gioco e mettersi davanti a un pubblico per far vedere anche l'orgoglio italiano e ringrazio anche tutta la comunità brasiliana, perché anche se non fosse per loro tutto questo non sarebbe possibile. Il tuo appello e il tuo entusiasmo andranno certamente raccolti, ma intanto ti chiediamo, quale appuntamento ti aspetta? Guarda, molto sicuramente adesso vediamo anche con Gisella, vediamo che forse inizieranno gli appuntamenti mensili qui all'Alibi, dove ci sarò anche sicuramente io in veste forse di vocalist e di animatrice sul palco. Grazie Verusca, complimenti per la tua capacità di presentare e di stare sul palco. Grazie, buona sera.